Seconda edizione della Rassegna Mare Nostrum, il pescato nella dieta mediterranea. La presentazione questa mattina nei siloni della Camera di Commercio di Napoli, presenti tra gli altri il Presidente della Seconda Municipalità, Francesco Chirico. È sicuramente un'iniziativa lodevole che va incoraggiata, sostenuta e che va replicata soprattutto, perché avrà un grandissimo successo. L'appello del Presidente di Commercio e Imprese per l'Italia e della Provincia di Napoli, Pietro Russo. Quindi un invito a tutti a partecipare a questa manifestazione, che andrà, ripeto, un'altra volta, a mettere in evidenza le cose buone che abbiamo e sono sotto gli occhi di tutti, basta però andarle a meglio proiettare nel scenario collettivo. Il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaluni, spiega gli obiettivi della manifestazione in evidenza e l'importanza per gli asset legati alla risorsa mare. Il mare è per noi una risorsa, forse finora poco sfruttata, e che anche attraverso queste iniziative può operare un processo di sensibilizzazione, direi culturale innanzitutto per i cittadini e imprenditoriale, per chi casa delle imprese, come dire, auspice, vuole fare attività aziendale e imprenditoriale anche su questo settore.